Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da Enel Civita Ittica sul progetto della pescicoltura alla frasca. In particolare al centro del ricorso al Tribunale regionale c'era la mancata approvazione da parte del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale nella seduta del 20 aprile 2022 della modifica delle aree assentite in concessione ad Enel Produzione per adeguare il porticciolo esistente con la realizzazione di un pontile degli arredi di banchina a quanto previsto nel progetto di realizzazione di un impianto di allevamento ittico in gabbie galleggianti a cura della società cooperativa agricola Civita Ittica. In sintesi, nella lunga sentenza emessa da Tar si parla della necessità per l'impianto di itticoltura offshore per il quale è stato presentato un progetto di un'apposita banchina da dedicare alle attività ma dell'impossibilità di realizzarla nel porticciolo in concessione ad Enel come appunto asserito dal Comitato di Gestione dell'Autorità. Soddisfazione viene espressa dal Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente Manuel Magliani che in un post ha scritto Ottimo lavoro dell'avvocatura dell'autorità portuale del Comune, afferma che hanno saputo sostenere le ragioni del diniego prosegue la ferma opposizione ad un progetto che non è in linea con la sostenibilità ambientale. Il rigetto del Tar al ricorso di Enel Civita Ittica viene accolto favorevolmente anche dalle associazioni che da anni si battono per bloccare la realizzazione del progetto di itticoltura alla frasca un progetto di cui si parla da tempo ma che non è mai stato accettato da tanti civita vecchiesi frequentatori della frasca perché è ritenuto impattante dal punto di vista ambientale a ridosso di un'area che dal 2017 è monumento naturale.